Una delegazione vicentina di Confartigenate e Camere di Commercio in Guatemala per incontrare le controparti locali. Una partnership virtuosa che esiste da anni e che potrà generare nuove opportunità di mercato. Sentiamo i presidenti Gianluca Cavion e Giorgio Xoccato. Siamo qui oggi in Guatemala per consolidare questo rapporto di collaborazione che va avanti da più di dieci anni. Oggi abbiamo avuto l'opportunità di incontrare il presidente della Camera di Commercio del Guatemala che ci ha presentato anche tutta una serie di imprenditori dove abbiamo condiviso delle opportunità per poter sviluppare i rapporti e dare continuità di crescita all'export e anche all'import per vari prodotti. Ma soprattutto è nata l'idea di condividere insieme a loro delle esperienze per poter preparare dei futuri imprenditori raccogliendo le esperienze che abbiamo anche dai nostri pensionati artigiani ora che sono in pensione da poter condividere le buone pratiche del saper fare per poter far crescere delle persone che poi ritornando nel proprio paese d'origine come il Guatemala possono esprimersi nel creare nuove aziende e nuove opportunità. Per quanto riguarda invece Vicenza e la Confartigenato può usufruire di questa opportunità e noi vorremmo che il personale che potrebbe arrivare dal Guatemala inserirlo all'interno delle nostre aziende non per i periodi brevi ma come minimo tra i cinque anni poi se queste persone abbiano acquisito delle capacità imprenditoriali possono tornare nel loro paese d'origine ed aprire delle proprie aziende o altrimenti restare anche all'interno delle nostre aziende nel Vicentino che ne abbiamo veramente bisogno. Abbiamo scoperto un paese che forse non è del tutto quello che ci aspettavamo o che pensavamo di conoscere un paese già molto bene avviato verso un processo di industrializzazione e internazionalizzazione un paese che aspira ad essere leader dell'area centroamericana e quindi un paese che nella dinamica dei nuovi equilibri geostrategici mondiali può giocare la sua parte. Noi come paese e noi come sistema Vicenza abbiamo delle buone carte da mettere sul tavolo partendo dalle attuali posizioni che sono buone, che sono positive che vedono già da alcuni anni dopo il Covid un ottimo andamento del commercio sia in export che in import e quindi il fatto di avere trovato delle persone, degli imprenditori oltre che delle istituzioni molto ben preparate, molto ben disposte verso di noi, verso il nostro paese al quale e del quale è bene sempre ricordare e con il quale condividiamo valori, esperienze e tradizioni quindi ci sentiamo anche culturalmente prossimi a quest'area, a questo paese il che senz'altro può avere un'indubbia ricaduta positiva sulle relazioni d'affari. Scambi commerciali e il progetto Artigiani senza frontiere il presidente della Camera di Commercio e Industria Italiana in Guatemala, Giovanni Musella esprime ai nostri microfoni l'entusiasmo degli artigiani del paese centroamericano e siamo onorati con la presenza della delegazione di altissimo livello che è venuta qui di Vicenza tutti gli imprenditori guatemaltechi qui sono positivissimi di questa riunione e vogliono avere un intercambio commerciale con tutti quegli imprenditori di Vicenza e le hanno fatto sapere a questi presidenti che loro cosa vogliono, che prodotti vogliono portare da Vicenza e anche abbiamo parlato del progetto di portare qui ai pensionati, artigiani e professionisti di Vicenza per insegnare ai guatemaltechi e poter mettere in valore la sua esperienza. Un incontro che potrà portare ad interessanti opportunità di business anche secondo il segretario generale della Camera di Commercio e di Industria Italiana in Guatemala, Gabriele Musto. Siamo stati molto contenti di ricevere questa importante delegazione da Vicenza sia la Confartigianato di Vicenza che la Camera di Commercio di Vicenza unendo oltre 100.000 unità produttive del territorio che oggi si sono presentate a quello che è il paese economicamente più importante del centroamerica che è il Guatemala con grosso interesse nei settori principali di sviluppo del territorio vicentino i macchinari per l'industria agraria, quello che è per la concia, l'industria della concia, l'industria dell'oro, l'abbigliamento e la moda. Crediamo che da questo incontro di oggi possano scaturire interessanti opportunità di business per le imprese guatemalteche e per quelle dell'area vicentina.